segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te questo paese ha fatto a meno delle regioni fino al 1970 non è che c'è stato come dire una grande difficoltà erano gli anni del boom del boom economico io credo che in una fase storica in cui tra l'altro si sta parlando di ripristinare i consigli provinciali anziché continuare a diminuire i costi della politica a ristabilire poltrone poltroncine magari per un po di personale politico trombato sul regionalismo questa è un'opportunità di riflessione io ricordo che il referendum per l'autonomia in regione veneto in regione lombardia hanno avuto un plebiscito e un'autonomia non è un principio in assoluto sbagliato anche perché se la si fa seriamente il presidente della regione sicilia dovrà spiegare in modo un po più serio di come sta facendo adesso perché spende 3 milioni e mezzo di euro di denaro pubblico in una regione che non ha soldi per gli alberi per gli ospedali e per la propria attività istituzionale per fare un festival ha detto che l'ha bloccato e l'aveva ereditato dalla precedente amministrazione solo per completezza di informazione pubblicamente questo è stato detto sì rispetto a questa vicenda sempre di destra parliamo il tema non è politico qui il tema è più istituzionale e costituzionale un'autonomia può avere un significato se la si fa in un modo diverso da come la sta preparando il ministro calderoli ha denunciato ricordo ha minacciato di querelare i giornalisti che dicono che spacca l'italia io ho scritto ma prima che lui minacciasse che disintegra l'italia così come la sta provando a imporre agli enti locali e le regioni che giustamente sono preoccupate perché se la si applicasse così come nella prima bozza di decreto sicilia quella è una prima abbiamo capito che quelle campania calabria chiudono gli ospedali li chiudono tutti questo è l'effetto di quella che pensi perché poi qui le regioni chiedono maggiori competenze diceva su alcune materie gelotto ma sono materie io penso intanto penso malissimo delle regioni sono contro natura l'italia no ma davvero l'italia l'italia dei comuni sappiamo tutti ed ecco perché invece io sono a favore delle province perché oggettivamente diciamo hanno un senso molto storico molto più ma no c'è il munice palesimo c'è la privazia dei campanili e dei comuni sull'opportunità di introdurre le regioni che prima non c'era io che sono siciliano ricordo lo sturzo che aveva in questo senso molto precisare diamo ai comuni quell'importanza e quel ruolo che avevano in passato secondo vengo ai comuni c'è un tema che è incredibile secondo me che non viene mai citato qui ci sono in italia regioni che sono meno grandi di alcuni comuni